Che cos'è la democrazia? La cosa più importante da capire è che la democrazia è un regime politico specifico, determinato, ha una origine e ha delle caratteristiche. Prima di tutto dobbiamo tenere conto del fatto che dentro la democrazia c'è un contenuto sempre polemico. La democrazia è un regime politico, una forma politica che si dirige sempre contro qualcuno, tendenzialmente, sotto il profilo storico, prevalentemente contro o monarchie o oligarchie. La sua caratteristica fondamentale, il principio su cui si fonda, è l'uguaglianza e quindi è orientata contro la gerarchia, contro ogni tipo di gerarchia. L'uguaglianza politica dei cittadini. Altra cosa è l'uguaglianza economica. Ci sono democrazie che hanno come proprio contenuto anche l'uguaglianza economica, ma alcune sì, altre no, ma sicuramente una democrazia della disuguaglianza è abbastanza insensata. La democrazia fino a tutto il XIX secolo è stata pensata quasi sempre, ed è stata percepita e si è percepita in opposizione al liberalismo. Questa è una cosa che va compresa, cioè noi viviamo oggi dentro delle liberal-democrazie, ma di solito nella storia del pensiero politico il principio dell'uguaglianza e il principio della libertà erano due principi in violento contrasto l'uno rispetto all'altro. Insomma, Mazzini e Cavour. Poi avevano avuto un momento di alleanza tattica, però quando Mazzini è morto era praticamente in galera, dentro uno Stato liberale, ed era comunque un super sovversivo. Il liberalismo e la democrazia in linea di principio non vanno d'accordo. Poi ci sono stati importantissimi pensatori che hanno tentato la mediazione, o comunque hanno capito che il destino, e a loro non piaceva per nulla, gli piaceva molto poco, il destino di un mondo che nasce liberale, cioè del mondo moderno, il destino di un mondo che nasce tutto centrato attorno all'individuo, al suo valore, questo mondo ha come destino di diventare democratico. Ma a questa altezza pensa Tocqueville, cioè i grandissimi, ma nella lotta politica il liberalismo e la democrazia sono lontani e avversari e a volte nemici. Quando poi la democrazia passa da essere un'idea politica, quale è in russo, che è in un qualche modo il padre del pensiero democratico moderno, quando la democrazia passa da essere un'idea politica, un'idea sociale, cioè tutto il filone del socialismo, beh, allora lì la conflittualità è aperta e dichiarata da tutte e due le parti. Il pensiero socialista, sia marxista sia anche non marxista, vede nel liberalismo sostanzialmente un'ideologia di classe nemica, un'ideologia di classe borghese nemica, e ovviamente i liberali vedono nel socialismo la negazione stessa del principio della libertà. Ecco, cioè non un banale avversario, ma un nemico assoluto. Allora, avevano ragione quelli che vedevano la democrazia come destino. Cioè, se il mondo liberale è costruito intorno all'idea di individuo dotato di diritti, se uno di questi diritti è il diritto di proprietà, se questo vuol dire che il cuore del liberalismo, sotto il profilo pratico, questo è più teorico in un'altra storia, ma il profilo pratico, è il capitalismo, allora il capitalismo genera, produce masse. Ecco, diciamo così. Cioè, è fatto apposta, soprattutto nella sua fase iniziale propulsiva, per portare via le persone dalle campagne e portare nelle fabbriche. E allora, quando tu porti via le persone a centinaia di migliaia, a milioni, dalle campagne e le porti dentro le città, nelle fabbriche, crei una situazione nella quale, a un certo punto, anche un ceto politico liberale deve fare i conti. Può fare i conti a cannonate, ma con le cannonate non si va molto in là, devi fare i conti con un'apertura paternalistica, come volete, ma insomma con un'apertura verso questa nuova richiesta di cittadinanza. Anche perché su quelle masse lavorano i socialisti. O su quelle masse, poi, lavorano anche le destre eversive. Perché, e anzi, tanto meglio lavorano quanto più le destre moderate sono moderate, sono conservatrici e non hanno voglia di sporcarsi le mani con le masse. Quando invece il discorso delle masse diventa sostanzialmente intenibile, ed è la prima guerra mondiale, quando le masse vengono adoperate per fare una guerra spaventosa, quale non si era mai vista, poi finisce la guerra, di questa gente qualche cosa bisognerà fare. Se non hai delle idee per portarle dentro una struttura politica capace di tenere dentro, di includere, capace di includere tendenzialmente tutti, ecco, se non le hai tu, borghesi, liberare, di sicuro ci sarà qualcun altro che quelle idee le ha. Questo qualcun altro sono i socialisti che riescono una volta a fare una rivoluzione, e la fanno in Russia, generando panico e, al tempo stesso, speranza. Tanto panico quanto speranza. E davanti a quella cosa lì, di fatto, le masse vengono catturate dall'estrema destra, a cui i borghesi, bene o male, di buona voglia o di cattiva voglia, cedono il potere politico. Per cui, non siamo ancora arrivati, cioè lì abbiamo ancora la libertà e la democrazia contrapposte, perché la libertà è la libertà democratica, come la intendiamo noi, ma insomma è una forte impronta liberale, e la democrazia in quel momento vuol dire le masse, e le masse sono tutte incluse, certo che sono incluse nella politica, ma sono incluse attraverso procedure nazional-totalitarie. Allora, il vero connubio produttivo, il vero connubio produttivo fra la libertà e l'uguaglianza c'è solo nel secondo dopoguerra. e ce lo porta, badate, ce lo porta il nuovo mondo. Ce lo porta il nuovo mondo. Se voi prendete una carta d'Europa nel 1938, voi vedete che la democrazia in Europa non c'è, tranne che in Francia, minacciata molto da se stessa, dall'interno, non dall'esterno. E poi in Inghilterra, ma l'Inghilterra appunto è un po' fuori. Tutto il resto, poi c'è la Svizzera, vabbè, ma insomma, tutto il resto è non democratico, non democratico di destra, non democratico di sinistra, democratico in una accessione qualunque, non lo trovate in Europa. Non lo trovate. Poi non parliamo della guerra, ecco, non parliamo della guerra, che appunto ha come obiettivo anche quello di spazzar via la democrazia dall'Europa, cioè dalla Francia, sostanzialmente. la democrazia torna a essere un'opzione praticabile per quel pezzo, non è tutta l'Europa, per quel pezzo d'Europa che cade sotto l'influenza americana. Sotto l'influenza russa si autodefinivano democratici, ma insomma, era una democrazia straordinariamente aggressiva verso i propri nemici, diciamo così. Ecco, per cui, è da lì. Sotto il profilo del pensiero giuridico è il neocostituzionalismo, sotto il profilo della pratica è liberal-democrazia, cioè finalmente i due principi si sposano, ma anche social-democrazia, purché alla parola sociale venga tolto la pretesa che il principio di uguaglianza che deve valere, altrimenti non c'è democrazia, sia anche un'uguaglianza socio-economica. In atto, ecco, in atto. Poi può essere un obiettivo di uno Stato democratico, comunque, l'uguaglianza dei punti di partenza, l'articolo 3 della nostra Costituzione, la Repubblica rimuove gli ostacoli. Bene, però, proprio, in atto no. per cui, cominciamo col dire che la democrazia, se non c'erano gli americani, noi non l'avevamo in casa. Noi europei non l'avevamo in casa. Ed è una democrazia che a noi, in Italia, si riallaccia a correnti di pensiero, italiane come no, ma insomma minoritarie, pesantemente minoritarie, nella nostra tradizione politica pre-fascista, non parliamo della Germania, e ricordiamoci che la Francia era per più di metà petenista, ecco, in Europa la democrazia era stata una fase di pochi anni dopo la Prima Guerra Mondiale. poi spazzata via dalla crisi del capitalismo e dalle dittature di destra. Bene? Cioè, le masse sono la materia della democrazia, ma non sono perché se la democrazia ci vuole l'inclusione delle masse, sì certo, ma una certa inclusione, non ogni inclusione. la legittimità della democrazia a questo punto quale è? Beh, è quella, se noi guardiamo la nostra Costituzione abbiamo un abbiamo uno specchio fedele della democrazia liberale, cioè diritti uguali per tutti, Stato che non concede i diritti ma li presuppone, li presuppone, cioè non dice tu cittadino hai diritti perché ti ridò io, ma dice tu cittadino hai diritti e io sono stato io Stato sono stato messo al mondo per tutelarli. per cui in linea teorica abbiamo l'uguaglianza e qualche cosa di simile all'autogoverno nel senso che il popolo riconosce come il potere legittimo soltanto il potere che nasce dal popolo. Allora questo nascere è in un attimo soltanto nel momento in cui si manifesta il potere costituente dopo quando il potere costituente si costituisce una costituzione con poteri costituiti allora sì l'autogoverno è un principio teorico c'è in mezzo però una mediazione rappresentativa noi non ci facciamo le leggi da soli le leggi ce le fa il Parlamento che ci rappresenta il Parlamento che rappresenta la sovranità del popolo la sovranità del popolo non è attiva se non nel momento del potere costituente ecco altrimenti quando ci sono poteri costituiti vi è una mediazione della sovranità e tuttavia nessuno di noi sarebbe disposto credo ad obbedire a leggi che non escano da un libero Parlamento liberamente eletto da tutti un libero Parlamento liberamente eletto da tutti fa leggi che ci possono piacere o non piacere ma che noi riconosciamo legittime ma solo quelle un potere che si imponga come autorità che ci sovrasta non lo riconosceremmo nessuno è disposto a riconoscerlo o per cui anche se non c'è la democrazia come presenza del popolo nelle liberal democrazia c'è la la democrazia come autogoverno mediato autogoverno mediato del popolo come viene percepito ecco come ve l'ho detta io è una cosa accettabile ma in realtà viene percepita in un modo un po' più semplificato cioè la democrazia è sostanzialmente percepita come l'unica forma di governo legittima che possa esistere come una forma di governo risultante da un processo teleologico cioè non si poteva non arrivare a questo e come la soluzione del grande problema dell'Occidente cioè come si fa a conciliare il particolare con l'universale l'individuo e la forma politica complessiva come si fa vi sono molti modi ma in ogni caso è un problema aperto bene l'impressione dei paesi democratici è abbiamo trovato la soluzione cioè quello che Marx chiamava il sogno di una cosa qui si è realizzato abbiamo un particolare che sta bene riesce facilmente a convivere con gli altri particolari dentro una forma politica universale abbiamo la soluzione con la L maiuscola la S maiuscola la soluzione del problema è questa e questo è sostanzialmente il senso è la realizzazione pratica la democrazia del senso della storia siamo stati messi al mondo o comunque sia abbiamo fatto la modernità cioè la rivoluzione contro il papa la rivoluzione contro i nobili la rivoluzione contro i ricchi o quel che volete voi l'abbiamo fatta per arrivare a questo la modernità non è stata trascinata alla democrazia ma era proprio nata per produrre la democrazia non è un prodotto laterale la democrazia no no è proprio ciò per cui la storia si è mossa ed è dunque coincidente coincide con il senso della storia con il senso della storia moderna con il senso di ciò che l'umanità deve e può fare e pretendere da se stessa cioè l'uomo è uomo sotto il profilo politico dove quando dico uomo intendo essere umano dunque ovviamente comprendiamo tutti noi vero? ecco l'uomo è uomo se vive in una democrazia se è capace di essere un particolare che sta insieme agli altri dentro una forma universale se obbedisce soltanto alla propria volontà diretta o mediata e dunque se la democrazia è questo la democrazia coincide con la moralità cioè con il fatto che l'uomo è sta facendo ciò che deve fare cioè essere se stesso al massimo non può essere un uomo non è un uomo una donna non è una donna se è passivo se obbedisce a qualche cosa che gli è esterno ma allora solo la democrazia è quella dimensione in cui la politica e la morale si incontrano la democrazia non è una forma politica la democrazia è la forma politica in cui l'umanità trova se stessa e quindi la democrazia è universale altro che è occidentale dove occidentale vuol dire nella pratica politica angloamericana se no ce la dimenticavamo no la democrazia è universale stiamo attenti perché dire questo vuol dire sostanzialmente delegittimare tutto il mondo che non è governato secondo quella che noi intendiamo democrazia delegittimarlo cioè chi è fuori dalla democrazia o è uno sventurato oppresso o è un barbaro o è un nemico ecco e quindi la democrazia è potenzialmente certo la democrazia è non bellicosa sulla base del principio che in una forma politica in cui comandano i cittadini difficilmente questo lo diceva Kant che qui si sbagliava ma insomma difficilmente ai cittadini viene voglia di fare la guerra perché la fanno loro a morire e dunque se siamo dentro una democrazia che per Kant non si doveva chiamare democrazia si doveva chiamare forma politica repubblicana ma insomma era la stessa cosa quando un uomo è uomo ed è al tempo stesso cittadino quando un uomo è capace di obbedire soltanto a se stesso cioè a una legge che è stata fatta da qualcuno che lo rappresenta eccetera eccetera quando siamo in questa condizione la moralità è realizzata poiché partiamo dall'idea che questa condizione è una condizione tipicamente umana e gli uomini sono tutti uguali in tutto il mondo la guerra non c'è più se non ovviamente come guerra di liberazione degli sventurati dalla tirannide una guerra di liberazione degli sventurati altrui dalla tirannide che cosa manca qui manca qualche cosa che è storicamente centrale e che invece dal pensiero politico della democrazia è escluso cioè il capitalismo detto in modo più teorico quell'individuo capace di essere democratico cioè capace di essere un particolare e al tempo stesso dentro una forma universale capace di produrre la sfera pubblica bene questo individuo è anche un particolare cioè se non siamo assolutamente russoiani cioè completamente estranei alla dimensione del privato di russo che dice che ciò che è privato è il male allora se poiché ci tocca lavorare cioè il privato il singolo deve è portatore anche non solo di un principio di universalità morale e di cittadinanza uguale ma è anche portatore di un principio di utilità cioè i diritti i diritti umani fondamentali sono vita libertà e proprietà allora se c'è un elemento di utilità e l'elemento di utilità è tipicamente particolare è il mio utile allora devi avere anche una teoria che ti dice che o il perseguimento dell'utile è una cosa da poco è un peccato veniale cioè puoi dire che è un peccato mortale e allora sei Rousseau però ti devi porre il problema di come si fa a produrre ecco Rousseau risolveva dicendo che beh pensarci bene la schiavitù avrà pure avuto una qualche giustificazione per forza se non metti in mezzo la dimensione del lavoro hai un problema ecco ma allora si dice no ma la mettiamo la dimensione del lavoro vita libertà e proprietà bene però la dimensione del lavoro non schiaccia la dimensione politica è compatibile il fatto che ci sia la ricerca dell'utile è umano è normale ma questa ricerca in un qualche modo la si tiene sotto controllo non produce effetti collaterali devastanti che è la nostra costituzione la proprietà privata è libera ma l'agire economico è orientato al bene comune ecco cioè ci si riesce la politica vince sull'economia l'universale vince sull'utilità particolare oppure si risolve la questione nella chiave della public choice o del neoliberismo e si dice no no ma l'universale salta fuori più o meno tranquillamente proprio dalle infinite interazioni dei particolari ciascuno di essi alla ricerca della propria privata utilità la dimensione dell'universale istituzionalizzata lo stato democratico è il problema non è la soluzione del problema è il problema fa più danni che altro la soluzione del problema del rapporto fra il particolare e l'universale è non pensare all'universale come qualcosa di diverso dal particolare l'universale è quello che Hayek chiamava il cosmos cioè l'ordine spontaneo che nasce dalle libere interazioni economiche dei singoli questo è uno dei problemi centrali della democrazia cioè la nostra liberal democrazia è costruita sull'ipotesi che l'enorme spinta all'utilità chiamiamola così sia resa compatibile con la dimensione universale che la democrazia porta con sé se vogliamo dire con lo Stato e la sua capacità di produrre il bene collettivo questa è la scommessa che può essere definita vinta può essere definita perduta a seconda che la si guardi in determinate fasi ci sono state delle fasi storiche nel secondo dopoguerra in cui questa scommessa era non completamente perduta diciamo così lo Stato sociale era capace di attutire attutire i colpi dell'economia anzi di sfruttare l'economia a fini di inclusione democratica tutti i grandi fenomeni economici degli anni 50 e 60 almeno in Italia sono fenomeni di inclusione sradicamento dalle campagne concentrazione nelle città immissione di masse prima estranee nella cittadinanza attraverso i partiti di massa non era proprio il paradiso però l'idea più o meno era quella ma nella autopercezione della democrazia detto in un altro modo così ci capiamo più facilmente in tutti coloro che pensano che la democrazia sia viva e vitale e universale e morale e in tutti questi la questione economica è sempre sottovalutata o taciuta o è un problema marginale o non è un problema l'inclusione c'è c'è già poi particolarmente oggi l'inclusione la si fa attraverso mille modi la piattaforma elettronica è il modo fondamentale tutti parlano con tutti e eccoci inclusi non ci sono più gli esclusi poi naturalmente se si va a vedere la realtà empirica gli esclusi ce n'è molti e crescono e soprattutto adesso ci arriviamo soprattutto l'autopercezione importante della democrazia è la democrazia è il regno della ragione cioè è quella dimensione nella quale i cittadini sanno tutto cioè il potere non è più non ha niente di arcano gli arcano imperi sono sono il male l'intera vita politica insomma anche una buona parte della vita sociale è trasparente è conosciuta o conoscibile non ci sono cioè la dimensione del segreto è una dimensione che ha a che fare con la privacy con il singolo la politica non deve conoscere il segreto dunque la politica è tutta nota la facciamo noi sappiamo noi tutto perché facciamo tutto noi le leggi ma le leggi ce le diamo noi non c'è nessuno che ci dice ho incontrato sono andato sul monte Sinai ho visto Dio che mi ha dato dieci comandamenti no non funziona così le leggi vanno fatte in Parlamento ma tutte le procedure tutte le procedure le amministrative le procedure burocratiche tutto quello che ti capita addosso nel corso della tua esistenza è tutto noto è tutto trasparente è tutto attraverso molte mediazioni in tuo possesso grazie a tutti